ecco gli studenti imperterriti che non sapendo cosa fare salgono a piedi fino al 15esimo piano della torre chirurgica a che piano siamo arrivati ragazzi? quasi a un tappo incredibile la fatica l'aria comincia ad essere una rifatta piano piano dieci porca vacca ritorneremo giù puzzoletti abbiamo perso la componente me lo so su youtube me lo trovo le distanze cominciano a farsi sentire che ultimi grattini? andiamo proprio su basta tieni su no no ritorneremo